La giornata di oggi si è conclusa con un 3-0 contro la Polonia e il risultato che ci aspettavamo, però siamo riusciti a trovare diverse formazioni quindi siamo contenti e abbiamo vinto 3-0 contro l'Ucraina con la quale abbiamo vinto 3-2 agli europei, partita molto combattuta invece con questo 3-0 ci dimostra i grandi miglioramenti che stiamo facendo e domani ci avremo alle 2 contro la Slovenia e quindi mi raccomando guardiamoci